Potrei diventare miliardario in un mese preparando questo piatto per gli altri, ma invece gli altri non sapranno mai quello che perdono. Ma è geniale! Il Giro d'Italia con Saporitali, ogni giovedì una regione diversa nel menù di Saporitali per scoprire le ricette della cucina italiana, un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Sabato e domenica, neve sciolta, stando alle previsioni meteo, emergeranno le bellezze d'Irpinia valorizzate dalle giornate del Fondo Ambiente Italiano. Le sorgenti di Cassano e diversi tesori del Vallo di Lauro. A Lauro Castello Lancellotti e la Chiesa di Santa Maria della Pietà, Villa Pandola, la Chiesa di Santa Maria Assunta e i musei e le chiese di Quindici. Siamo alla 26esima edizione delle giornate fa. Portiamo l'attenzione del territorio irpino, ripetendo la riapertura delle sorgenti Pollentina a Cassano, perché quest'anno, il 2018, è stato dichiarato anno dell'acqua. Poi il Vallo di Lauro. Abbiamo riportato un'attenzione su un ciclo di affreschi unici, la cui condizione richiede assolutamente un'attenzione extralocale. Cioè mi sono fatto carico di portare questo problema per indirizzare un'attenzione anche di tipo strettamente economica su questo ciclo. Giovani volontari faranno da Cicerone ai luoghi del cuore individuati in Irpinia. Sotto le filosofie operative del FAI, quello di andare a sollecitare l'attenzione delle nuove generazioni, ma che vivono davanti, sopra, questi beni che non li conoscono. Noi aiutiamo ad aprire le porte, li portiamo a contatto dal vero e quella consapevolezza li rende talmente poi forti che con questa capacità sono loro a trasmettere questa cultura e queste conoscenze.